Maxi Rissa tra vent'anni a Fermignano denunciati otto giovani che a maggio si erano azzuffati per futili motivi. Annuncio shock del sindaco di Pesaro Matteo Ricci alla fiera di San Nicola si accede solo col Green Pass l'obbligo vale anche per gli ambulanti. Carta verde e tamponi negativi ecco le regole per viaggiare in aumento i test nei drive dell'area Vasta 1. Se devo andare per non poter essere completamente libera allora magari preferisco fare qualcosa un po' più contenuto però poter essere un po' più a mio agio anche. Musica dal vivo, aperitivi e cene sotto le stelle. Domani nel centro storico di Fano un nuovo appuntamento con il mercoledì degli artisti. Dopo 30 anni dall'ultima edizione torna a Fano il Festival della Fortuna. Due serate all'Anfiteatro Rastat dedicata al concorso Canoro con super ospiti e 15 finalisti. a Ferragosso alla chiusura dell'evento con il concerto dei figli di Ivan Graziani. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con l'operazione portata a termine dalla compagnia Carabinieri di Urbino che ha denunciato a piede libero otto giovani per una rissa scoppiata nei mesi scorsi a Fermignano per futili motivi. Almeno tre i ragazzi che erano rimasti feriti. Il video della rissa era diventato virale sui social, poi un tantam su Whatsapp fino a che è finito nelle mani delle forze dell'ordine. Pugni, spintoni, strattonamenti e qualcuno che cade a terra. Dieci secondi di immagini che immortalano un gruppo di ragazzi darsene di santa ragione. Era il tardo pomeriggio dell'8 maggio scorso quando i ragazzi si erano ritrovati tutti insieme nel giardino di un locale di Fermignano. Quando è scoppiata la rissa, tre ragazzi che avevano subito traumi dovuti alle colluttazioni, ferite alle mani, al labbro, agli occhi, al cranio e al torace. In due si erano recati all'ospedale di Urbino mentre uno era stato soccorso da un'ambulanza all'esterno dell'esercizio. Non si esclude però che altri coetanei abbiano rinunciato alle cure per non essere refertati. In questi mesi le indagini della compagnia Carabinieri di Urbino hanno portato alla denuncia a piede libero di otto giovani tra i 18 e i 22 anni che divisi in due gruppi avevano partecipato alla rissa. Sono tutti dell'entroterra di Fermignano, Urbagna e Acqualagna. Grazie alle testimonianze e al racconto dei partecipanti, i militari della stazione di Fermignano hanno ricostruito la dinamica accertando che l'episodio è avvenuto per futili motivi e forse anche sotto l'abuso di sostanze alcoliche. Non è stato semplice, ha detto il capitano Renato Puglisi, ricostruire i fatti e la responsabilità di ognuno. Infatti c'era un clima di umertà fra i giovani e la loro aggressività potrebbe essere legata anche a un malessere dovuto a questo contesto storico segnato dalla pandemia. Dopo un controllo ispettivo, il locale è stato chiuso per un giorno e sanzionato per non aver rispettato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro né il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus. Ancora cronaca, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recensione sul lato destro della strada per poi finire dalla parte opposta nel muro di un condominio. Incidente autonomo ieri sera in via Liguria a Marotta di Mondolfo. A rimanere coinvolti sono stati due fidanzati che per fortuna ne sono usciti illesi, tanta anche la paura dei residenti che intorno alle 23 dopo aver sentito il forte rumore causato dall'impatto sono scesi in strada per capire che cosa fosse accaduto sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. E adesso la sanità perché dopo diversi giorni in cui non sono state registrate vittime legate al covid nell'ultima giornata si è verificato un decesso. Si tratta di una 92enne residente a fermo. Invece sono 54 i positivi al coronavirus rilevati nelle marche nelle ultime 24 ore, 10 i nuovi casi nella provincia di Pesero Urbino. Negli ospedali c'è un ricovero in meno per un totale di 14. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva mentre in semi-intensiva c'è un degente in meno in 24 ore. Anticipano il resto d'Italia il sindaco di Pesero Matteo Ricci e l'assessore Francesca Frenquellucci. Questa mattina hanno annunciato che per accedere alla fiera di San Nicola in programma a settembre servirà il Green Pass. L'obbligo sarà valido anche per gli ambulanti. Il prossimo servizio è stato curato da Angelica Panzieri. L'accesso alla fiera di San Nicola sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. L'annuncio di questa mattina del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci ha già sollevato un polverone sui social. Il primo cittadino come nel suo stile si è portato avanti battendo gli altri sul tempo e dichiarando di aver voluto semplicemente anticipare la linea nazionale per tornare ad organizzare eventi in sicurezza. Si parte, ha detto Ricci, da una manifestazione storica della città che nel 2020 avevamo deciso di non organizzare. Quest'anno si svolgerà, come da tradizione, nella zona mare di Pesero dal 10 al 12 settembre. Nei prossimi giorni, assieme a Forze dell'Ordine, associazioni di categorie e organizzatori, ci incontreremo per mettere a punto il piano di sicurezza. La certificazione verde Covid-19 dovrà essere presentata da tutti coloro che vorranno accedere all'area, ambulanti compresi. Il tempo di annunciarlo è già su Facebook. Il sindaco ha subito iniziato a collezionare le prime critiche da parte della cittadinanza, non tutta ovviamente. Intanto, l'assessore Francesca Frenquellucci, ai microfoni di Fano TV, spiega perché il Comune ha deciso di adottare questa linea. Come decisione non siamo i primi a prenderla, perché comunque, come vediamo anche dai TG, anche in altre parti del mondo, stanno prendendo e vanno in questa direzione. Bisogna capire dove vogliamo andare, perché se vogliamo dare continuità lavorativa e tutela della salute, dobbiamo cercare una soluzione per forza, altrimenti possiamo rischiare di ritrovarci come lo scorso anno e quindi richiudere e vedere di nuovo manifestazioni in piazza, gente che chiama, che chiede, di poter lavorare, ma se abbiamo gli ospedali pieni, poi è chiaro che vengono richiuse le attività e ci ritroviamo di nuovo in un altro lockdown. Tutto questo non lo possiamo permettere, quindi una soluzione va presa. Capisco che come inizio può sembrare tutto esagerato, però aspettiamo di vedere anche la parte tecnica delle decisioni che verranno prese poi anche riguardo al Green Pass. Vi siete chiesti se dal punto di vista costituzionale è legittimo? Beh, allora, adesso aspettiamo anche che cosa esce a livello nazionale, quali saranno le soluzioni che ci verranno date, ma comunque da quello che vedo la direzione è questa, altre soluzioni non le vedo, altrimenti se poi la curva si rialza ci saranno di nuovo chiusure e con tutte le conseguenze che abbiamo già vissuto. E non si è fatto attendere il parere negativo di Anva Confesercenti. Non vogliamo che il mondo dell'impresa diventi il pretesto per introdurre un obbligo vaccinale che in realtà non c'è, spiegano Ligurgo e Rinaldi, presidente vice. La fiera è all'aperto, hanno ricordato dove è risaputo il rischio di contagio di gran lunga minore. Se l'obiettivo di Ricci è quello di ripartire con un evento in sicurezza, allora imponga l'uso delle mascherine. Se invece impone il Green Pass per la fiera di San Nicola, hanno concluso, allora dovrà farlo per tutte le iniziative che si organizzano sul territorio. L'alternativa sarà annullarli tutti oppure avere due pesi e due misure. E nonostante l'aumento dei contagi è tornata la voglia di viaggiare. Allora, prima di sentire che cosa faranno i cittadini in questa estate, abbiamo fatto il punto con l'Azur, un'area vasta uno, per capire che cosa serve per uscire e rientrare in Italia tra Green Pass, tamponi e quarantena. Mentre il governo sta discutendo in queste ore per stabilire i nuovi criteri del Green Pass, che tra le altre cose potrebbe servire anche per salire sui mezzi di trasporto, come treni, aerei e navi, rimangono in vigore le altre regole per uscire o rientrare in Italia. In base al DPCM del 2 marzo scorso, il viaggiatore, sia italiano che straniero, per tornare nel nostro paese deve registrarsi a una piattaforma europea, dove creerà un DPLF, cioè un modulo di localizzazione del passeggero, da inviare tramite mail all'Azur Area Vasta 1, insieme al tampone fatto all'estero o alla certificazione verde. È disponibile anche un numero di telefono per avere tutte le informazioni. Attualmente, per quanto riguarda l'ingresso, la normativa prevede alcuni giorni di quarantena, nello specifico 10 giorni di quarantena da tutto il resto del mondo, mentre per Europa ed Area Schengen sono previsti 0 giorni di quarantena, a patto che sia negativo il tampone, piuttosto che la certificazione verde sia operativa, quindi vuol dire doppia dose di vaccino, piuttosto che essere guariti dal coronavirus, o appunto aver fatto un tampone entro le 48 ore. L'unica specifica è per al momento la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che prevede 5 giorni di quarantena. Poi, prosegue l'infermiere, noi del Dipartimento di Prevenzione faremo il tampone nell'ultima giornata di quarantena e solo se il referto sarà negativo si potrà uscire. Intanto è stato registrato un aumento di persone di rientro dalle vacanze che si presentano ai punti drive di Fano, Pesaro e Urbino per sottoporsi al test. Invece per quanto riguarda le uscite c'è lo stesso un sito? Sì, il DPCM è chiaramente molto focalizzato sull'ingresso in Italia, quindi le regioni e l'Asur si prodigano in tal senso. Per l'uscita, se vi consigliamo di guardare il sito viaggiare sicuri.it, dove in alto a sinistra c'è un campo paese, si mette il paese di destinazione e lì il Ministero nostro degli Affari Esteri riferisce cosa a quel paese occorre. Se ad esempio dovesse occorrere un tampone, si può fare questo tampone in qualsiasi laboratorio, chiedetelo bilingue, perché l'italiano all'estero non è ancora riconosciuto, mentre chiaramente l'inglese sì. E sono tanti giovani che hanno disdetto viaggi già prenotati, mentre altri, per via dell'aumento dei contagi, hanno rinunciato in partenza. Qualcuno ha già dovuto disdire le proprie vacanze all'estero, altri invece hanno rinunciato in partenza. Viaggiare durante la pandemia è diventato complicato. Nella giungla di norme di ingresso, che variano da paese a paese, i più distratti rischiano di non riuscire a partire per le tanto attese vacanze, o peggio, come già accaduto in qualche città, di rimanere bloccati nel luogo di villeggiatura. Ad oggi chi ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia può raggiungere liberamente, con qualsiasi mezzo, ogni regione, senza obbligo di presentare certificati. Ma lo scenario potrebbe cambiare a partire già dalla prossima settimana. La prima incognita riguarda proprio l'entrata in vigore del decreto Covid, che porta con sé l'estensione dell'obbligo del Green Pass, il quale, dal 1 agosto, potrebbe essere necessario per viaggiare anche su aerei, treni e traghetti. Più complicata la situazione per chi deciderà di andare all'estero nei paesi dell'Unione Europea. Qui servirà anche il PLF, un documento digitale che contiene tutte le informazioni che riguardano il proprio itinerario, identità dei passeggeri, tappe e mezzo con cui ci si sposta. Senza questo modulo, l'ingresso nei vari paesi dell'Unione Europea non sarà consentito. La prevenzione ce l'ho, vado all'isola d'Elba e l'unico problema è con il Green Pass adesso per vedere le vaccinazioni. Io vado in Sicilia e parto domani, quindi non ho disdetto nulla, parto con le mie amiche. L'aumento dei contagi che c'è stato in altri paesi ti spaventa anche le notizie che hai sentito, non so ad esempio Malo. Comunque noi siamo tutti vaccinati, si prendono le giuste precauzioni, ovviamente non si frequenteranno posti affollati, le discoteche e tutto, però c'è da fare visitare le città, fare i turisti e andare al mare, secondo me si può stare tranquilli. E poi ci avevano dato la possibilità a questa agenzia di partire per la Spagna, però adesso abbiamo visto che ci sono proprio i contagi che aumentano tanto con questi ragazzi che partono e poi devono stare chiusi in questi hotel Covid da soli per fare le quarantene ed è una cosa, cioè, terribile, a parer mio stare lì senza genitori, da soli, dei ragazzi così giovani e quindi mi spaventa molto come cosa. Quest'anno si resterà qui a Pesaro al mare, ecco. Sì, è un po' confusa la questione. Se devo andare per non poter essere completamente libera, allora magari preferisco fare qualcosa un po' più contenuto, però poter essere un po' più, un po' più miagio anche. Ho dovuto disdire una vacanza proprio nella settimana di Ferragosto perché avevamo prenotato in Croazia ma probabilmente tornerà alla zona arancione e quindi abbiamo dovuto rinunciare. Io in realtà non avevo prenotato nulla ma vista la situazione direi che non è il caso di prenotare niente in questo momento, anche perché qua va solo peggiorando, quindi starò a vedere autunno come andrà, insomma, sperando. Devi tenere conto, però dai anche col Green Pass adesso un po' la situazione è tranquilla, puoi prenotare tranquillamente. Tu avevi prenotato una vacanza? Sì, l'ho prenotata, cioè ancora la devo prenotare, la sto prenotando, però per il momento sta filando tutto liscio. Ed è iniziato domenica scorsa il campo missionario organizzato dalla Diocesi fino al 24 luglio, un gruppo di circa 20 giovani vivrà questa settimana di condivisione, formazione, riflessione e festa. I partecipanti trascorreranno gran parte della settimana al prelato e faranno tappe in quattro parrocchie del territorio Pergola, Fossombrone, Fenile di Fano e Calcinelli di Coglia Metauro. Inoltre ci saranno tre serate aperte a tutti, infatti Villa Bassa del Prelato aprirà il cancello alla cittadinanza dalle ore 21 nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì per momenti di animazione, festa e testimonianze missionarie. Dopo 30 anni dall'ultima edizione torna a Fano il tanto amato Festival della Fortuna. Il concorso Canoro si svolgerà il 14 e il 15 di agosto a Sassonia di Fano e a chiudere l'evento di cui Fano TV è media partner ufficiale sarà il concerto dei figli di Ivan Graziani. Un tuffo nella storia per rivivere le emozioni del passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. A distanza di 30 anni dall'ultima edizione torna a Fano il Festival della Fortuna il concorso Canoro che coinvolge musicisti, attori e artisti valorizzando la loro creatività e il talento. Ad organizzare la manifestazione che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 agosto all'Anfiteatro Razzat è l'associazione culturale Fortuna Music con il contributo del comune e della regione. Dopo il grande successo ottenuto dalla sua nascita nel 1988 fino al 92 con la presenza di super ospiti come Gigi Sabani, Valerio Merola, Anna Pettinelli, Dino Sarti e tante altre celebrità oggi fervono i preparativi per l'evento che vede già 40 iscritti dai 13 ai 60 anni provenienti da ogni parte d'Italia. Il bando si chiuderà il 25 luglio e il 2 agosto dopo una preselezione verranno svelati 15 finalisti che accederanno alla prima serata del Festival. Il 14 infatti al termine delle esibizioni verranno proclamati vincitori come chicca la proiezione dei filmati di allora con la presenza di alcuni degli artisti che giovanissimi parteciparono al Festival. Nella serata del 15, la seconda serata ricanteranno i vincitori che saranno tre tra gli editi e tre tra gli inediti oltre al premio critica intitolato quest'anno al nostro amico compianto Luciano Bonfitto organizzatore del Festival insieme a me nel 1988 e ideatore. Nella seconda parte della serata ci sarà appunto il concerto dei figli di Ivan Graziani che portano in tourne per l'Italia il concerto Filippo Graziani canta Ivan. Ivan appunto ci diede una grossa mano in quegli anni del Festival contribuendo insieme alla moglie Anna Bischi all'organizzazione dell'evento. Non mi rimane che invitarvi tutti all'Anfiteatro Rastat di Fano il 14 e 15 agosto per il nuovo Festival della Fortuna. A battere i cantanti sarà una giuria composta da dieci esperti del mondo della musica e dello spettacolo presente anche l'attore produttore e regista Giorgio Vignali ambiti invece i premi per i vincitori delle due categorie tra cui targhe e buoni per registrare i brani negli studi del Museo della Batteria in zona Bellocchi. Il vincitore assoluto passerà di diritto alle semifinali del premio Pigro mentre chi riceverà il premio della critica potrà esibirsi al Carnevale di Fano. L'ingresso alla prima serata avrà un costo di 5 euro mentre per la seconda sarà di 10 i biglietti possono essere acquistati nella sede della Proloco alla cooperativa Tre Ponti dalle 8.30 alle 12.30 online su live-ticket.it oppure la sera stessa a Rastat. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre e sui canali social di Fano TV media partner del Festival. C'è anche un nuovo logo o quasi? Sì, quasi perché il logo abbiamo preso spunto quello delle vecchie edizioni degli anni 90 è un logo comunque che richiama fortemente la musica in quanto come vedete alle mie spalle c'è questa chiave di violino come i colori come vedete alle mie spalle ci sono colori estivi come ad esempio il rosso l'arancione il verde delle nostre colline marchigiane e questo bellissimo blu del nostro fantastico mar Adriatico. Armando lei aveva partecipato e vinto la seconda edizione che ricordi ha dell'epoca e che cosa significa per voi cantanti partecipare a un festival di questo genere? Beh, ricordi bellissimi e poi questa manifestazione se non sbaglio ha fatto diventare ha tirato fuori diversi professionisti e comunque era il sogno per me è stato il sogno che si avvera poi da lì o comunque fatto anche musicista di professione quindi è una cosa bellissima e intanto nel centro storico di Fano continuano i mercoledì degli artisti domani un nuovo appuntamento nei locali della città e particolari nel servizio di Letizia Marchionni Tanta musica live come colonna sonora di aperitivi all'insegna della creatività cocktail speciali e cene sotto le stelle torna anche domani 21 luglio l'appuntamento con il mercoledì degli artisti iniziativa promossa dall'assessorato al turismo nell'ambito di Fano en plein air che proseguirà fino a settembre animando i locali e gli angoli più suggestivi del centro storico della città questo mercoledì al Curcuma Caffè di Piazza Costanzi a partire dalle ore 19 alle 23 si potranno gustare i drink accompagnati da musica per tutti i gusti abbiamo organizzato un evento collaborando con l'artista chitarrista Paolo Rem che propone i brani che hanno fatto la storia della musica pop, rock, blues e della musica italiana internazionale vi aspettiamo per una serata molto divertente dove si possono gustare i nostri cocktail speciali facendo un viaggio intorno al mondo al Mona Lisa invece in zona Pincio a partire dalle 20.30 salirà sul palco Sylvia Wacht in Solo Act chi dice che la chitarra è cosa da uomini un viaggio incontro con la musica al femminile che andrà da Johnny Mitchell a Janice Joplin fino a Lana Del Rey Billie Eilish e molto altro spostandoci all'ideale Food & More in piazza 20 Settembre dalle 19 alle 21 torna invece l'aperitivo artistico in cui dare il libero sfogo alla creatività con Appennello è una serata innovativa intrattenimento pittorico facciamo dipingere anche chi non ha mai preso un pannello in mano durante un aperitivo in compagnia si socializza si beve e si mangia qualcosa il tema affrontato sarà Frida Fiorita? noi suggeriamo Frida Fiorita in questo caso in omaggio a Frida Calo ma ciascuno può dipingere quel che vuole questa collaborazione è nata dalla voglia di collaborare appunto con una start up giovane innovativa che come stile diciamo che si accomuna molto alla nostra anche il nostro ristorante è molto artistico diciamo sia nel proporre piatti della tradizione rivisitati sia per uno staff giovane e brillante e quindi ci siamo sentiti subito questo affiatamento questa unione con questo gruppo di artisti che veramente fanno divertire in modo sicuro alla gente che viene al nostro ristorante l'evento si ripete tutti i mercoledì la prenotazione è obbligatoria sia telefonicamente presso il sito internet o presso il nostro locale in piazza Andrea Costa dalle 22.30 al senza tempo Live Music Club sale sul palco Montoya Live cumbia elettronica accompagnato dal suo inseparabile violino alla mandria di Viale Buozzi invece questa settimana la serata sarà dedicata dalle 20.30 agli hamburger di Angus irlandese il chef Samuele Ferri e Andrea Guiducci cucineranno all'antico bracere sotto gli sguardi curiosi degli ospiti con tanto di Live Music by Scarra Fanchi Pino Daniele Tribute Band infine in piazza 20 Settembre dalle 21.15 nei tre locali Bardun, Degusteria e 29 Caffè le hits americane ed inglesi che hanno caratterizzato la musica degli anni 80 verranno riproposte in originali arrangiamenti acustici chi animerà la serata di domani per Bardun Degusteria e 29 Caffè dunque è un gruppo ovviamente di tutti gli artisti fanesi si chiama The 80's Wonder Live ovviamente faranno musica anni 80 ci divertiremo sarà una serata molto nostra un po' per la nostra età ma un po' per tutti perché gli anni 80 ormai sono tornati assolutamente di moda quindi è un direi un gruppo adatto alla piazza e quindi un po' per tutti e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale dal titolo aspettando la festa della Cresciamatta l'evento che si terrà ai tre ponti di Fano da venerdì a domenica l'informazione invece torna domani mattina con il commento alla stampa e il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni è sempre lo stesso 338 4968 250 buona serata a tutti